Ciao ragazzi, eccomi qua con questi colori sgargianti, tipici zanzibarini. Allora, questo video è dedicato a Nungui, che è una località a nord di Zanzibar, dove io alloggiavo. Io ho alloggiato non in un resort, ma bensì in una casa zanzibarina, gestita da un italiano, che si chiama Casa Carlotta. Mi sono trovato benissimo a 360 gradi. Allora, Nungui è considerata la migliore località di Zanzibar, soprattutto per le basse maree che sono abbastanza contenute. Io non ho visto né l'ovest né il sud dell'isola, quindi non posso dirlo, però a detta di tutti sembra Nungui la migliore località. Io ho potuto ammirare dei colori stupendi del mare e della sabbia, un accostamento che non avevo mai visto nei miei numerosi viaggi, a parte Cayo Gutiace, quindi io Nungui la metto a pari merito con Cayo Gutiace, che è una spiaggia nel nord di Cuba, per chi l'ha vista. Comunque godetevi questo video dedicato proprio a Nungui, a questa prima parte di Zanzibar. Ciao ragazzi, buona visione e alla prossima. Ciao da Renataus. Ciao ragazzi, buona visione e alla prossima. Ciao ragazzi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.